Pistoiesi e Ianese 2 a 2 finisce così al Marcello Melani con gli erancioni che hanno agguantato il pari in pieno recupero. Un punto che serve a poco alla squadra di Consonni, tanto amaro in bocca per i neroverdi che hanno disputato un'ottima gara e due episodi a sfavore hanno poi decretato il risultato finale. Se la Pistoiese esce dal Melani ancora con un pareggio restando a zero in quanto a vittorie casalinghe, la Ianese se ne va con tante certezze in più e la consapevolezza di meritarsi una posizione alta in questo girone. Per la cronaca parte subito molto bene la squadra di Ciccio Baiano, si fa vedere in avanti in due occasioni. La Ianese inizia a fare la partita, mette in difficoltà gli erancioni e trova il vantaggio alla ventitresimo con Mirval. Errore di Benassi che permette al numero 90 neroverde di arrivare davanti alla porta, saltare Urbietis e metterla dentro per l'uno a zero. La Pistoiese fatica a trovare spazi ma mancano anche le idee e a manovrare il gioco sono sempre gli ospiti che chiudono i primi 45 minuti andando di nuovo vicino al gol con Mariani. La ripresa si apre con il pareggio della Pistoiese al 48esimo, su sviluppo di una punizione, Spurio respinge nell'area piccola, infortunio di Pantano e spedisce la palla nella propria porta, uno a uno. I giochi si riaprono, la Ianese non si abbatte, anzi continua a macinare il gioco, ottima occasione per Mariani al 50esimo. Intanto mister Consonni parte con i cambi nelle file arancioni per provare a rendere la squadra più offensiva, dentro di Biase e Boccardi. In pochi minuti tanti calci d'angolo conquistati ma niente di più. Dall'altra parte ancora in vantaggio la Ianese, è il 72esimo, ne approfitta Mariani con una retroguardia arancioni disattenta. Pochi minuti dopo la Pistoiese reclama per un rigore non concesso dall'arbitro, si prosegue. Dentro anche Barzotti per gli arancioni, a Ianese vicina alla terza rete con Mattiolo. Cresce anche un po' di nervosismo in campo, la Pistoiese resta in dieci per l'espulsione di Benassi, per doppio giallo il giocatore per l'appunto era rientrato oggi dopo aver scontato tre giornate di squalifica. La Ianese si difende, cerca di salvare il risultato e proprio nei minuti di recupero il direttore di gara concede un penalty alla Pistoiese. Citro batte Spurio e segna il 2 a 2.